Cosa stai preparando? Allora, sto preparando un piatto con capa santa, acetosella, sedano e vaniglia. Iniziamo. Abbiamo una crema di acetosella, su cui adagiamo delle capa santa appena scottate. Un olio di sedano, dei tranci di sedano brasato. Andiamo a completare il tutto con delle foglie di acetosella fresca, delle infiorescenze di acetosella. E qualche goccia di olio alla vaniglia. E fior di sedano. E il piatto è pronto. Questo piatto è stato preparato da Giovanni Michele Gagliano, del restaurante Italia, di Mico Forte. Buon appetito!